Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, rieccoci finalmente con Dark Souls e il tanto atteso DLC finale, The Ringed City, la città degli anelli. Allora, per arrivare al DLC, ho letto che chiaramente dovevo esplorarmi il gioco all'inizio e alla fine non c'era onestamente voglia, si arriva, si parte da qui, adesso vedete in realtà bastava andare nell'ultimo falò del gioco ma ho preferito fare questa apertura un po' così. Di solito sapete che a me piace iniziare con un filmato e poi cominciare il live commentary, ho preferito fare in maniera leggermente diversa per un semplice motivo, perché? Perché questo sapete che è l'ultimo, eccolo lì, lì c'è un falò che ci fa partire il DLC, vedete? Quello è il falò che ci porta allo scontro finale e questo è il falò del DLC. Allora, dicevo ragazzi, prima di sederci e continuare, è l'ultimo step, l'ultima cosa, l'ultima parte del gioco della saga, scusate, della saga di Dark Souls. Come ampiamente annunciato da Miyazaki, il direttore artistico, nonché mente dietro a questo bellissimo universo dei souls, è l'ultima parte, è l'ultimo capitolo, ci aspetta un bel viaggio da quanto ho avuto modo di leggere nelle varie recensioni, non mi sono spoilerato nulla se non all'inizio e un boss, in realtà sono due, purtroppo vedendo video così ho anche preso magari un po' dalla voglia di avere, della voglia di conoscere, mi sono fatto prendere leggermente la mano e purtroppo mi sono spoilerato queste due cose, nulla di che, nel senso che non andiamo a affrontarlo ugualmente con la curiosità massima di queste cose, spero non mi vada a deludere, un'ultima cosa da dirvi, prima, anzi due in realtà, una tecnica, e cioè i video che vedrete inizialmente dovuti per il fatto che ho veramente poco tempo per registrare, saranno molto brevi, una ventina di minuti conto 25 al massimo, compreso questo, quando riuscirò a registrarne un po' di più, quando vedrete che saranno sulla quarantina di minuti classico, vuol dire che ho avuto modo di registrare in maniera più completa. Detto questo, mi scuso per non averlo portato prima, però il tempo che ho a disposizione è quello che è, tra l'aggiornamento precedente di 7,5 GB e questo qui di 2,9 GB, poi con la mia connessione qua, ci vogliono dei secoli, l'ultima cosa che volevo dirvi, rispetto all'ultimo video che abbiamo visto, il personaggio è leggermente cambiato, queste sono le caratteristiche che vedete, perché? Perché ho finito il gioco, mi mancava l'ultimo boss, se ben ricordate, quello lì che ce l'ha, esatto, l'ho finito, sono andato indietro per il gioco a recuperare tutti gli oggetti che mi ero perso, quindi ho terminato sostanzialmente il gioco, se mi siedo al falò del vincolo, al Nexus, se vogliamo, mi dice inizia viaggio 2. Quindi, detto questo, vediamo un attimo l'armamentario del nostro personaggio, ho messo la spada lunga, affilata, raffinata, in realtà mi sarebbe piaciuto avere una spada di fuoco, che in realtà è questo, lo spadone di Lorian, non lo so, perché è uno spadone, pesa un botto, perché io onestamente non so cosa andiamo ad affrontare, un'arma di fuoco non mi sarebbe dispiaciuta, aspettateva, non so se crearmi un'arma di fuoco, ma che cazzo di arma di fuoco mi creo io, ce l'ho la Claymore, ce l'ho la Claymore del fulmine, cazzo, che cazzo ci faccio con una Claymore del fulmine, ma vacca la puttana di Eva, spadone del cavalli nero portato 5, ma pesa un fottio, eh no, però non volevo, vabbè ragazzi, ah, abbiamo questa, è vero, che io non avevo utilizzato nel DLC precedente, perché? Perché era un DLC ambientato nel... ah, non mi ricordavo più, ah, il solito personaggio, il nostro vecchietto moribondo, eh, guardatelo, mamma mia, mamma mia il panico, è vivo, ma, mamma mia, va bene ragazzi, buttiamoci, via, anche perché abbiamo perso 4 minuti, vediamo se parte un filmato di introduzione alla nuova area, curiosità è tantissima, eh, anche perché mi aspetto molto da questo DLC, deve spiegare, deve, deve farlo, deve spiegare tante cose, lo deve fare, come uno di rifiuti, io quest'area, questo, è uno dei pellegrini, aspettate che alzo un po' il volume in cuffia, sì, questa parte qua l'avevo vista, salve, un uomo di latta, sì, beh, un bel panorama, ma un po' strano, sì, beh, un bel panorama, come out of nowhere, do you think an old stone amped hag would be brimming with goodies, none of that, not a smithereen, at the close of the age of fire, all lands meet at the end of the earth, great kingdoms and anemic townships will be one and the same, the great tide of human enterprise, is all for note, that's why I'm so taken by this grand site, this must be what it's like to be a god, ok, aspettate un attimo, allora, parla, if you just can't stop yourself, at least hear this, far below, there's a deep dark hole carved out of a tree, from time to time, voices brim from the depths of the cavity, even now, matterings of the very demon that Prince Lorian spoke of, I'm sure, horrible sounds of an afflicted thing, yet cursing men, at the close of the age of fire, great kick, that's why I'm this, ok, eh, vendi oggetto, vabbè, uguale, solito, acquista oggetto, attenzione, spadone fendifoglia, vacca, e basta, no, solo questi, spadone fendifoglia, uno spadone dal manico lungo, giunto da matera lontana, in acciaio, in acciaio dall'elsa alla punta, risulta estremamente pesante, tredici e mezzo, il nome deriva dalla forma della lama, coperta da venature simili a quelle di una foglia, ruota con forza l'arma sopra la terra, spazzare via i nemici, poi esegue un attacco normale e potente, per continuare a girare, evocando il potere d'evento, rendendo gli attacchi sempre più devastati, quindi vanno a diventare più pesanti di volta in volta. Credo che questa signora la reincontreremo, la rincontreremo, quindi, qua non c'è niente, no, attenzione, scusi, scusi, ma, buttati, e lei? Scusi, 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 ho capito, capito, un attimo. Ah, gli anelli, tra l'altro, come vedete ho messo questo perché mi serve il drop dei nemici, questo per le anime, Cloranzia e Avel, sono i soliti, vabbè, non ho messo l'anello della benevolenza perché comunque abbiamo già lo scudo che ci aumenta il recupero di energia, molto bene, vediamo se riusciamo a trovare qualche oggetto nascosto, direi che però non c'è un'america sega, possiamo scendere, ahia, mamma mia, ci siamo, che cazzo c'è, ci siamo dentro la cenere, sprofondiamo nel terreno, mamma mia, aspettate, panico, vabbè, innanzitutto togliamo questo, no, questo è il mio, no, ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto, un rumore sta, cazzo, cazzo, e quelli? Aspetta, no, panico, figa, sta venendo qua? Ah, vabbè, gli facciamo un po' di danno però, non sono poi così, secondo me è quel bastardo mago che li richiama, voglio sapere quanto danno mi fanno loro però, sì, è il mago bastardo, aia, mamma mia se fanno danno però, eh, ok, aspetta, aspetta cazzo, no, togliti, ti ho visti, panico, eh, vaffanculo, ok, fuori le palle, oh, cristo, ma no, ho perso tutta la parte di là, eh, ci sono caduto come un coglionazzo però io, no, come un vero coglionazzo, eh, cazzo, chi è? cazzo, no, cazzo, stronzo, curati, immediatamente, immediatamente va, qua c'è qualcosa, qua c'arrivo, dove, eh, io so, porca puttana, come c'arrivo di sopra? no, pane, panico, mamma mia, non si vedono, eccolo la, sti cazzo di stronzi di merda, panculo, non so se faccio più danno, con, eh, cazzo, no, ma credo che il danno comunque sia più o meno, c'è 7, è similare, c'è un cazzo qua da prendere, no, panico, cazzo se, non è quello, venga giù lei, non è per sfiducia, ma non è, mi fido, mamma mia, questo, mamma mia, se mi beccava quello credo che sarei finito molto male, chiudate, faccio altro che buttarmi, ma, ma, cazzo, eh, e vacca però, eh, scusate, il panico, eh, ah, forse di qua riuscivo ad entrare, sì, ok, perfetto, falcetto nebuloso, cazzo, aspetta, aspetta, panico, porca troia, sì, però sti attacchi di merda, no, eh, allora, falcetto nebuloso, falcetto nebuloso, falcetto nebuloso, falcetto nebuloso, ah, richiede 11 di fede e di intelligenza, fa danno da oscurità, questo falcetto dal corto manico, è una delle armi predilette dai tre tre britanti, tetra e di profanità, questi che abbiamo affrontato adesso, una nera umidità la avvolge, l'oscurità è la fonte del suo potere, potere, ok, facciamo vedere che cazzo c'era qua, buttati, buttati, ma qua mi sparano, oh, va, cazzo, eh, cazzo, eh, mi butto, ma, puttana, merda, eh, sto cazzo, guarda il Cristo, e io mi butto, ma, vacca lurida, però, sì, ma per favore, non mi piace molto questo modo di fare, quelli, sono due cavalieri, sono due fottuti cavalieri, sì, non mi infili molto, venga lei, per favore, no, venga lei, un paio di palle, mamma mia, che cavalieri rosa, ah, vabbè, ma hanno lo stesso moveset, no, cazzo, bevi, no, no, non è il momento di bere, via, panico, 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 non è il momento di bere, questo, aspetta, no, aspetta che se mi becca una volta sono morto, venga qua, eh, che cazzo, devo un po' riabituarmi, perché, l'amato del cavalieri di Lothric, ma sono uguali a quelle, e dell'altri, calva, credo di sì, corazza di un famoso cavalieri di Lothric, il blasone andò mai in pezzi, in realtà, in realtà, il cavalieri è stato uno dei tre pilastri che è tuttora simbolo di Lothric, quindi sì, ma i draghi infernali, ok, allora, lì c'è un'altra strada, che abbiamo già finito le fiaschette, cazzo, cioè, ragazzi, non sono a livello basso, 110, ma qua non c'è un cazzo, quindi, in più non mi sembra che stiano dando molte anime, ho sbaglio, sono partiti con 50, 50, non è che mi fidi molto, vabbè, questi sono senza testa, quindi dubito, e figurati, figurati se non c'era un'inculata, ecco lo stronzo, sono loro, quindi, che li evoca, no? Eh, abbiamo capito come funziona, allora, aspettate voi due, non è per sfiducio, ma, vedete come va qua, in questo mondo, aspettate, va, fammo così, va, recuperiamo un po' più in fretta, in questo modo, chiaramente, si sommano gli effetti, quindi, recuperiamo più in fretta, eh, Cristo, però, eh, un pezzo di titanino, eh, quanti cazzo, però, bacca la puttana, che male che fai tu, però, eh, si sommano gli effetti, ma sti cosa sono bastardi forti, no, mamma mia, che rischio, ma c'è un altro qua, no, e basta, secondo me c'è un altro vivo, perché non è possibile che continuino a venire fuori, guarda, guarda, la mamma puttana di questi, però, eh, vabbè, succate, devo andare a trovare l'altro, di sicuro, guarda, gli stronzi di merda qua, non ho capito come funzionano questi, bastone di nebulo, no, 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 Cristo, guardate, voi, che cosa devo fare, no, vabbè, ciao, meno male che posso andarci contro e, ma all'infinito, no, per sapere, giusto curiosità, no, quelli non li uccidiamo, niente, no, non vale la pena, non vale la pena, non vale la pena, panico, 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 ah, eccolo lì lo stronzo, guarda il, lo stronzo di merda, mamma mia, se ti prendo, eccolo dove era lo stronzo del cazzo, vediti, vediti, una fiaschietta, ma, un'amicizia, guardate lo stronzo, come si era annidato, no, nel panico, no, cos'è quella roba lì, cos'è quella roba lì, scusate, no, non sono riuscito, merda, intanto mi sono preso tutta la parte di sopra, già mi girano i coglioni, dove è il, cannocchiano qua, binocchio, in realtà, cannocchiano è un'altra roba, è vivo, è vivo quel roba lì, aspetta, è vivo, è vivo, ma io devo scappare da questo, scappa, cazzo è sto roba, ah, ok, vabbè, piuttosto, tenero, e ti tenete scintillate, gambe, qua, buttati, ok, se tu sei uno stronzo però, già mi stai sul culo, il moto è odivo, perché, insomma, è giusto che tu lo sappia, mi stai molto sul culo, perché mi dici buttarmi, e vado sempre in situazioni di merda, aspetta, vediamo come funziona, qua, c'è già quel tizio lì che mi sta sul cazzo, non vorrei che ci fosse anche l'altro che mi sta sul cazzo, ma da quanto ho capito, se fanno così si suicidano, tipo, oh Cristo, oh Cristo, scappa, mamma mia, oh Cristo, ma questo come lo uccide, ma non li uccide lui, aspetta, mamma mia, dove sto, dove sto, dove sto, gli sono impenetrato dentro, ah no, ma ho preso questo, stia calmo lei però, ci agiti troppo, ah, Cristo se fa male, Cristo, vabbè, ma che rollo di merda ho fatto, fanculo va, ma come faccio a fargli male a questo, e bacca, anche di culo però, di pancia, poi, ci manca che mi vada di pisello, siamo a posto, tira fuori un pisellone enorme, cazzo, questa sapevo che mi faceva male, mamma mia, spero che mi dia, solo 6.000 anime, c'è tutto sto bordello, e 1.520 fiaschette, per 6.000 anime, voi sempre morti, quando c'è bisogno, non mi raccomando, un falò, mosso del ritorno, sì, quasi quasi torno indietro, mamma mia, il framerate però, mamma mia, mamma mia, mamma mia, grazie FromSoft, mi mancavano questi framerate, facciamo una bella cosa, perché così diventa, veramente, ingiocabile, allora, abbandoniamo, ritorniamo alla schermata del titolo, a parte che comunque, possiamo anche salutarci qui, perché vi ho detto, che il video sarebbe stato, più o meno breve, quindi ragazzi, facciamo così, primo video è andato, noi ci vediamo, col prossimo video gameplay, di Dark Souls 3, e della nostra, città degli anelli, alla prossima ragazzi!